L'udinese di mister Colantuono sta svolgendo quella che è la seduta mattutina qui a Granada con i campi messi a disposizione dalla formazione bianco-rossa. I ragazzi si preparano a quella che è la partita di questa sera. Il mister ha tenuto il consueto discorso iniziale prima o poi di scendere in quelli che sono i dettagli per la gara di questa sera, una sfida in cui inevitabilmente l'udinese proverà a ritornare al successo in gara serale dopo le sconfitte in quella di Lignano contro la formazione del Bastia e nella più recente amichevole contro la SPAL. Un'udinese che vuole assolutamente fare bene qui in questo trofeo di Putassion che rappresenta quella che è un po' la provincia di Granada dove ci siamo trovati nella giornata di ieri. Ieri non c'è stato allenamento, questa mattina però una seduta che vuole principalmente andare a dare indicazioni su quella che è appunto la tattica da improntare contro la formazione di Sandoval. Una formazione che al pari nostro viene da due battute d'arresto e che quindi proverà nel terreno amico a debuttare con un buon risultato. Ecco perché per i bianconeri sarà un test sicuramente affidabile in una giornata. Ancora una volta come ieri un po' variegata tra un gran caldo che c'è come sempre qui in Andalusia in questa stagione e qualche nuvola che sta velando il cielo. Staremo a vedere quelle che saranno anche le condizioni climatiche di questa sera. Atteso un discreto pubblico anche perché insomma visto proprio qualche nuvola in più, qualche nuvola extra che è sulla città, è probabile che qualcuno decida di non restare in spiaggia ma di raggiungere prima possibile il nuovo Los Carmenes per il debutto stagionale della formazione del Granada.